Ciao, sono Marco. Ho lavorato per il progetto TBK Junior con il Team Plaid Home da fine giugno a fine luglio. Questo è il progetto che abbiamo sviluppato in questo mese e consente di scattare delle foto per poi ricostruire tramite queste foto l'oggetto tridimensionale piazzato sulla superficie del tavolo. Abbiamo scritto un programma il quale acquisisce delle foto a varie angolazioni e tramite queste foto da varie angolazioni siamo in grado di estrarle appunto il modello 3D dell'oggetto reale che poi può essere visto sullo schermo oppure può essere stampato in 3D come per esempio questo elefante che corrisponde a questo o il pesce che si può vedere sulla tavola rotante. Ciao, sono Alessandro e ho fatto uno stage ad FBK dal periodo di giugno a luglio e lo scopo del mio stage è stato quello di sviluppare una piattaforma per ricostruire un oggetto tridimensionalmente. Questa piattaforma è low budget e quindi permette a basso costo di ricostruire un oggetto. I dispositivi utilizzati sono dispositivi molto economici per chi riconosce degli Arduino. Il pesce che possiamo qui vedere è stato scansionato dalla nostra applicazione e poi stampato tramite una stampante 3D. La parte più difficile da sviluppare è stata quella dell'interfaccia seriale tra la programmazione del tavolo e quella del PC. Inoltre abbiamo dovuto sviluppare l'interfaccia grafica e tutte le varie funzionalità. Nell'interfaccia grafica si possono vedere quattro pannelli, ogni pannello serve a regolare alcune impostazioni. vi è il pannello per ruotare il tavolo che permette di impostare i gradi in cui il tavolo ruota e serve per scansionare ogni lato dell'oggetto in questione. L'esperienza è stata molto interessante perché ci ha permesso di migliorare la nostra capacità di programmazione e conoscere nuove cose soprattutto nell'ambito della fotogrammetria. Grazie a tutti.